Sarà ascoltato anche un super tecnico in prima commissione, quella che si occupa anche di sicurezza, a Padova sul tema della dotazione alla polizia locale del taser. Lo annuncia la presidente della commissione e consigliera del Partito Democratico, Etta Andreella. Abbiamo deciso di invitare un tecnico che si occupa di taser che venga a spiegare come funziona il taser, quali sono i pro, quali sono i contro. Non gli chiederemo che cosa pensa lui del taser, perché ovviamente questa è un'opinione che dobbiamo discutere tra noi. Però ritengo, e riteniamo in linea generale come Partito Democratico, che se non hai le informazioni non puoi decidere sulla vita degli altri. Nessuna decisione è stata presa la consigliera Andreella, però sottolinea che il corpo di polizia locale è già dotato di strumenti per difendersi. La polizia urbana ha già a disposizione la pistola, per esempio, che mi sembra già una cosa particolarmente pericolosa, ma ha a disposizione anche lo spray, quello diciamo al peperoncino, non so adesso esattamente come venga definito. Ma soprattutto ha a disposizione la possibilità di parlare con le persone, di ragionare con le persone, che credo sia quello che dobbiamo fare. Di tutt'altro opinione, la minoranza, per la lista Peghin, bisogna cercare un dialogo tra le varie forze politiche per dare risposte agli agenti di Palazzo Moroni. Si sta facendo un'azione molto ideologica, che secondo loro, questo taser diciamo non serve, invece secondo noi, secondo anche le testimonianze, secondo i sindacati, secondo la comunità, è diventato un mezzo fondamentale, soprattutto con le tecnologie attuali in cui viviamo, per dare anche la possibilità agli agenti di muoversi al meglio. Fondamentale per il consigliere Meneghini la formazione degli agenti. Dopo un'adeguata formazione, ovviamente, perché comunque si parla di un mezzo pesante, però è anche fondamentale, soprattutto nelle situazioni difficili, senza che si vada, diciamo, contro a utilizzare mezzi ancora più pesanti, il taser può essere la salvezza e anche per dare alla comunità quel senso di sicurezza che molto spesso può mancare. Grazie. 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 Grazie.